Nella tarda mattinata di oggi, salutato dalle frecce tricolori, Romeo Romei, il sottomarino della marina militare, ha mollato gli ormeggi e si è fatto rimorchiare per uscire dal porto e mettersi alla via per giungere a Chioggia, dove sarà atteso verso mezzogiorno. Il corteo di benvenuto sarà formato oltre che dai natanti che vorranno salutarlo, anche dalla bella Trix e dai bragozzi Ulisse. A Venezia il sottomarino era l'ormeggio in riva Sette Martiri, transennata in modo che la coda dei visitatori potesse procedere ordinata, anche a Chioggia è prevista la possibilità di visita al suo interno, con equipaggio disponibile a raccontare il raccontabile dalla A alla Z, incluso come avviene il caricamento dei siluri, sopra i quali l'equipaggio praticamente ci dorme. La visita fatta lo scorso anno è stata molto interessante e ve la consiglio. Non potete riprendere e fare foto, in quanto si tratta di un mezzo militare, ma i racconti degli uomini e delle donne dell'equipaggio su come si vive sotto metri d'acqua sono curiosi e affascinanti. Ci hanno chiesto se le visite siano prenotabili, ci risulta che lo scorso anno lo fossero per le scolaresche, ma non per i piccolissimi gruppi, che purtroppo si dovranno mettere alla via e attendere il proprio turno. Qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Grazie. Grazie.